Salve a tutti gente, ben ritrovati qui su Pausa Caffè parlando di politica stavolta e di Giorgia Meloni che attualmente sta lavorando molto incessantemente al suo primo summit della Nato a Vilnius, cioè la capitale della Lituania con i riflettori praticamente del mondo addosso. E perciò gli argomenti sono anche importanti di discussione, Nato giustizia, tensione Nato Zelensky che è molto attuale diciamo e poi il G7 in campo. Parlerà oggi la premier italiana, consapevole che qui, al vertice dei grandi d'Europa insieme al presidente americano Joe Biden e l'ospite d'onore Volodymyr Zelensky, è arrivata l'onda lunga delle polemiche che a Roma scuotono il suo governo. Su tutte, lo scontro tra politica e giustizia ha declinato nelle inchieste giudiziarie che hanno colpito l'esecutivo, dal caso del sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro all'indagine che coinvolge Daniela Santanché, ministra del Turismo di Fratelli d'Italia, per la gestione delle sue aziende. Nel mentre, la timoniera del governo italiano lavora per portare a casa un risultato dal ritrovo dell'alleanza nei Balti. Tra le righe del comunicato finale, ad esempio, ha ottenuto di far inserire l'impegno della Nato a investire sul fianco sud, cioè sulla sicurezza del Nord Africa e del Mediterraneo che tanto impensieriscono Palazzo Chigi tra traffici di esseri umani riversati sulle coste italiane e manovre dei mercenari russi Wagner nell'Africa subsahariana e in Libia. Per il resto, Meloni si ritrova a suo malgrado al centro di un summit più teso e complicato del previsto. Il suo governo si è posizionato in primissima linea a difesa di Volodymyr Zelensky e l'Ucraina aggredita, sostegno politico, sul fronte militare invece più modesto rispetto agli aiuti inviati da Francia e Germania. E anche per questo le parole al vetriolo del leader ucraino alla vigilia del summit, l'accusa di un assurdo rinvio per l'adesione dell'Ucraina alla Nato, diventano una matassa da sbrogliare anche per Roma. Raccontano di un Biden infuriato al punto da dare forfè alla cena serale offerta dalla presidenza lituana. Non a caso stamattina, in conferenza stampa con il segretario generale Jens Stoltenberg, Zelensky ha gettato acqua sul fuoco, la decisione di invitare l'Ucraina a unirsi all'alleanza è storica e ha anche se manca una data precisa per spalancare le porte della Nato. Meloni arriva di prima mattina sulla passerella blu dell'hangar di Vinyus che ospita il summit, completo bianco e merletti, non parla. Anche a lei, a capo di un governo dichiaratamente atlantista e filousa ma politicamente molto vicino alla coalizione di paesi est-europei, Polonia in testa, più goltransista nel sostegno a Kiev. Nel mentre, la premier può rivendicare la dichiarazione congiunta dei leader G7, cui molto ha lavorato la diplomazia italiana, per fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina. Un ombrello in più per Zelensky, aspettando la Nato. Ma anche un'arma a doppio taglio. Perché l'impegno delle nazioni del Pacifico al summit dell'alleanza militare del Nord Atlantico, a Vinyus è stato invitato anche il Giappone, ha infastidito non poco la Cina. Che ora tuona con toni insolitamente duri, Pechino prenderà iniziative adeguate se la Nato dovesse ledere i suoi interessi legittimi. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like, e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.